Raimondo Todaro l'ha già detto e lo ripete ancora. Non me ne sono andato io da amici, fosse per me, sarei anche rimasto. Ma dopo l'esclusione di Raimondo dal talent show di Maria De Filippi, c'è stato un altro clamoroso colpo di scena, quello che nessuno si aspettava, anche sua moglie Francesca Tocca, la ballerina professionista più amata della scuola di amici, non si è più vista nel programma, scrive di più tv. Un addio non ufficiale, Francesca non ha mai smentito la voci. E sembra, infatti, che abbia lasciato la scuola di amici per stare vicino a Raimondo Todaro perché pare abbia litigato con Maria De Filippi. Un addio per amore, dicono gli amici della coppia. Per poter stare vicino a Raimondo in un momento difficile, dove manca la serenità, Francesca deve molto a Maria De Filippi e al programma, ma è evidente che dopo l'addio del marito non ha voluto lasciarlo solo.